Il tempo ha smesso di essere una sequela interminabile di giorni da riempire con lezioni e tesine, passaggi nei bar e in biblioteca, che conduceva agli esami, alle vacanze estive o al futuro. È diventata una cosa informe che avanzava dentro di me e che bisognava distruggere a ogni costo. Seguivo le lezioni di letteratura e di sociologia, andavo alla mensa dell'università, dopo pranzo o dopo cena prendevo il caffè alla Falouche, il bar degli studenti. Non ero più in quel mondo, c'erano le altre ragazze con i loro ventri vuoti e c'ero io. Per pensare alla mia situazione non impiegavo nessuno dei termini che la designano, né aspetto un bambino, né gravidanza, né tantomeno incinta, troppo simile a incidentata. Implicavano l'accettazione di un futuro che non avrebbe avuto luogo. Non valeva la pena nominare quanto avevo deciso di far scomparire. Nell'agenda usavo forme ellittiche o scrivevo questa cosa qui, una sola volta incinta. Passavo dall'incrudità che tutto ciò mi stesse davvero accadendo alla certezza che prima o poi mi sarebbe per forza dovuto accadere. Qualcosa che mi aspettava dalla prima volta che avevo goduto sotto le lenzuola a 14 anni, senza inseguito, e malgrado le preghiere della Madonna ad altre sante, aver più potuto impedirmi di rivivere con l'esperienza, fantasticando quasi sempre di essere una puttana. Era già un miracolo che non mi fosse capitato prima. Fino all'estate precedente ero riuscita, a costo di sforzi e umiliazioni, le accuse di fare la stronza o la preziosa, a non far l'amore completamente. Di fatto, a lungo, mi ero salvata soltanto grazie alla violenza di un desiderio che, facendo fatica a restare dentro i limiti del flirt, mi aveva portata a temere persino un semplice bacio. Stabilivo confusamente un legame tra la mia classe sociale d'origine e quello che mi stava succedendo. Prima a fare studi superiori in una famiglia di operai e piccoli commercianti, ero scampata alla fabbrica e al bancone. Ma né il diploma, né tutti gli esami dati a lettere, erano riusciti ad ostacolare la fatale trasmissione di una misera di cui la ragazza incinta era, alla stregua dell'alcolizzato, l'emblema. Mi ero fatta fregare dagli ultimi ardori e ciò cresceva in me. Era, in un certo senso, il fallimento sociale. Mi sposto, vengo da te. Quello che vi ho appena letto è un estratto da questo libro di Enierno, l'evento. Enierno qua racconta la sua storia, è un libro autobiografico, di quando era una ragazza di 23 anni che studiava in Francia e che a un certo punto rimane incinta. Ai tempi l'aborto in Francia era illegale e lei non sapeva assolutamente dove andare, come fare. Sapeva una cosa soltanto che era che non voleva tenere quel bambino, che non aveva nessuna intenzione di portare avanti quella gravidanza. Nel libro, che vi consiglio di leggere se non l'avete già fatto, racconta tutto lo struggimento di una donna che si sente completamente sola, abbandonata dalle amiche, alla quale non può assolutamente dire cosa le è capitato, altrimenti la giudicherebbero, dall'uomo con cui ha avuto quel rapporto sessuale che l'ha portata ad essere incinta, dai medici che la ignorano e che le dicono che un bambino è sempre figlio dell'amore, mentre lei descrive l'essere incinta con la frase è orribile. Racconta anche di quanto la legge, e adesso ne parleremo, sembra opporsi assolutamente alla natura e che ci siano proprio due fazioni che gareggiano una con l'altra, racconta del pregiudizio sociale sulle donne che rimangono incinte e verrebbe da dire che è una storia lontana, che è qualcosa che non ci riguarda, ma invece purtroppo siamo qui stasera perché non è assolutamente così, quindi nessuna nota positiva in questo racconto. Sono qui stasera con Giulia Crivellini che vi presento, che è uno dei volti di Libera di Abortire. Libera di Abortire è un collettivo, una campagna, un'iniziativa che si occupa di divulgare e di informare rispetto alle tematiche dell'aborto e alle tantissime sfaccettature che l'aborto porta con sé. Ed è con te che vorrei iniziare a parlare di questo. Come dicevo, in Italia l'aborto ci sembra ormai cosa fatta, sappiamo tutte che è un diritto che abbiamo e quindi se vogliamo abortire possiamo abortire. Sono passati molti anni dalla legge che l'ha sancito, eppure non è proprio così. Quindi secondo te perché nel 2022 dobbiamo riunirci in una sala ancora per parlare d'aborto. Qual è la situazione in Italia? Grazie dell'invito e buonasera a tutti e a tutte per essere qui questa sera. Sono passati molti anni da questa conquista, era il 1978, una conquista importante che tante hanno appunto conquistato per noi, ci sono arrivate per noi, per le nuove generazioni, una legge, la 194 fondamentale, un pilastro dei diritti civili in Italia, che dobbiamo continuare a celebrare e ringraziare perché pensare che fino alla fine degli anni settanta qualsiasi tipo di aiuto all'aborto veniva punito con il carcere è qualcosa di incredibile probabilmente oggi, ma così era, era così in tantissimi paesi europei e nel mondo ed è così ancora adesso, è così ancora adesso anche in quei paesi, e vengo a noi all'Italia, dove c'è una legge che ci garantisce questo diritto. C'è, continua ad esserci una, in alcuni luoghi del mondo, una vera e propria criminalizzazione, però anche dove questo diritto è stato riconosciuto gli ostacoli sono tantissimi e quindi Libera di Abortire, che è un collettivo, che è una campagna, che è una iniziativa politica, sociale, civica, nasce dall'urgenza, dopo oltre 40 anni di vita della legge 194, di riaccendere la luce sulle interruzioni volontarie di gravidanza, sui diritti delle donne, su il percorso ad ostacoli che migliaia di donne in Italia oggi ancora si trovano a vivere. non vuole essere, diciamo, un'iniziativa triste, ma di grande attivismo, vuole riaccendere uno spirito civico direi, più che politico, per far sì che torniamo a parlarne, a guardare in faccia quelli che sono gli ostacoli, ad offrire delle soluzioni, quindi a riappropriarci di un diritto che abbiamo dato forse noi per prime, per assodato e garantito, ma che così non è. C'è ancora molto per cui lottare, ogni diritto, forse ogni diritto civile non può mai essere dato per scontato, necessita, un po' come il sistema, diciamo, democrazia in ogni paese, di essere alimentato, accudito, nutrito. Quali sono gli ostacoli principali oggi in Italia? Sicuramente il primo è quello della informazione. Ne parlavo prima con Giulia, poco prima di entrare qui, se vi dovesse capitare di fare questo esperimento e di andare sul sito del Ministero della Salute, alla voce Salute delle donne, interruzioni volontarie di gravidanza, troverete pochissime informazioni sull'aborto. Ci sarà, troverete dei link alla legge 194 e al fatto che la legge 194 nasce come legge, e questa è la sua rubrica, di tutela della maternità. Quindi la prima, diciamo, volontà esplicita del legislatore del tempo, perché dobbiamo ricordarlo, fu una legge importante, è una legge importante, ma fu frutto di un compromesso storico-politico tra visioni profondamente diverse e prende il là, all'articolo 1, con questa frase. L'Italia riconosce la maternità come valore sociale del paese, dello stare insieme. L'interruzione volontaria di gravidanza, quindi, è proprio nell'impianto legislativo un'eccezione. Non viene mai riconosciuto, non troverete mai la parola scelta, diritto, autodeterminazione, proprio nell'impianto legislativo. È un'eccezione e questo ha fatto sì, almeno dal mio punto di vista, che a livello di informazione, a livello culturale, non si arrivasse mai, nonostante questa conquista, ancora oggi, non si arriva ancora adesso, a parlare di vera e propria autodeterminazione della donna e quindi a riconoscere anche nello Stato un ruolo principale, il ruolo chiave nel accompagnare ogni donna in un percorso di scelta. L'informazione, quindi, è poi la chiave un po' del tutto. Il fatto di avere un'informazione corretta, completa, fa sì che poi si possa andare incontro a un aborto sicuro. C'è una strettissima connessione tra informazione che ci viene data e sicurezza in quello che viviamo, che le donne vanno a vivere e quindi Libera di Abortire ha come principale, diciamo, obiettivo quello proprio di fare informazione. Sul sito del Ministero, che appunto dovrebbe essere, diciamo, il primo interlocutore con i cittadini, con le cittadine, nulla viene detto su, ad esempio, cosa può fare una donna, chi può rivolgersi nel momento in cui scopre di essere incinta e di non voler portare avanti una gravidanza? Dove può recarsi? Nulla di tutto questo viene detto. Noi, ad esempio, abbiamo proposto al Ministro Speranza di fare una mappatura dei consultori e delle strutture pubbliche dove si può interrompere una gravidanza nel nostro Paese. Sono tantissime le donne che si rivolgono a noi e non sanno che cosa fare, qual è il primo step da compiere. E questo è il primo degli ostacoli, la mancanza di informazione. Ci sono situazioni più favorevole di altre, quelle in cui c'è una rete di amicizie, di conoscenze che possono fornire queste informazioni, ma ci sono anche tante situazioni. Penso anche alle ragazze straniere che hanno anche la barriera magari della lingua, in cui la mancanza di informazione diventa veramente il primo ostacolo grande da affrontare. E poi ce ne sono altri. Sono quelli di una politica in determinate parti d'Italia che, lo dico senza di un certo colore, diciamo di una certa provenienza del centro-destra, tendenzialmente quando non estrema-destra, che nelle regioni o nelle città dove governano introducono veri e propri provvedimenti volti a ostacolare l'interruzione volontaria di gravidanza. Penso, 2020, a quelle realtà, Abruzzo, Marche, dove sono stati introdotti provvedimenti volti a non riconoscere le linee guida ministeriali che fortunatamente hanno ampliato l'accesso all'aborto farmacologico in dei hospital, in regime ambulatoriale. Veri e propri provvedimenti che rendono le cittadine di quel territorio cittadine di serie B rispetto ad altre realtà d'Italia. E ancora il grande tema dell'obiezione di coscienza. Obiezione di coscienza per il personale medico e paramedico che è riconosciuta per legge come un diritto al pari, secondo la legge 194, di quello della donna a interrompere una gravidanza, ma che oggi vede dei livelli, dei tassi così alti da schiacciare il diritto all'autodeterminazione e all'accesso a un servizio sanitario che è appunto l'aborto. La media nazionale è il 70%, quindi in 7 casi su 10, 7 volte su 10 diciamo, non 7 volte su 10, ma una donna che si approccia a 10 persone, a 10 ginecologi o ginecologhe per chiedere di interrompere volontariamente una gravidanza, in 7 casi si troverà di fronte a un no. In 7 casi su 10. In alcune regioni tocca livelli dell'80, del 90%, in Molise c'è un solo medico che non esercita l'obiezione di coscienza in tutta la regione. Questo provoca la necessità per le donne di, innanzitutto, delle ripercussioni anche psicologiche, parliamo di un diritto dove il tempo è tutto, anche a livello sia fisico ma anche psicologico. La necessità di spostarsi in regioni dove invece i tassi fanno sì che si possa accedere tranquillamente all'interruzione volontaria di gravidanza con costi, con fatiche. Insomma, questo è un qualcosa che credo non sia più possibile negare e quindi a distanza di oltre 40 anni è forse davvero urgente tornare a, anzitutto, a parlarne, a prendere coscienza dei problemi che esistono oggi sul nostro territorio, a guardarli e cercare di offrire alla politica, all'istituzione, a chi avrebbe per legge il dovere di occuparsene e di garantirci questo servizio che, anzitutto, è un servizio medico, che questo avvenga appunto nel migliore dei modi. Quindi l'urgenza c'è anche in quei luoghi, in quei paesi come l'Italia dove, appunto, possiamo dire che su carta un diritto è garantito, però su carta un diritto se non viene fatto vivere nel concreto dal mio punto di vista diritto non è. Certo. Mentre tu prima dicevi i dati, parlavi, ho visto tantissime espressioni tra il pubblico, tra cui mi metto insieme, del tipo 70%, cioè tante persone facevano così e devo dire che oggi in MindGap i dati sono stati veramente all'ordine del giorno, nel senso che anche io, che non vado molto d'accordo con i numeri, quando, senti, prima parlavamo di donne, soldi e potere, con Azzurra, Rinaldi e Simona Bonito e quando ci hanno raccontato i dati di quante donne possiedono un conto proprio, cioè privato, anche lì siamo rimaste tutte sconvolte, quindi oggi a volte i dati servono. La cosa che mi sorprende molto è che quando mi sono trovata, soprattutto visto i recenti fatti che stanno accadendo in America, perché siamo veramente molto, per dire, sul pezzo quest'oggi, ahimè, che ci racconterai, mi sono trovata a riflettere su ma perché? Cioè, perché oggettivamente c'è qualcuno che dice no al fatto che qualcun altro possa abortire e guarda caso qualcun altro è una donna. Quando ho cominciato a rifletterci mi sono detta che poi ci sono tantissime cose del femminile per cui altri ci dicono no, praticamente tutto. Cioè, se ci penso, no coi peli, oppure sì coi peli, no con il naso così, oppure sì con no, cioè no a, diciamo prima, a gestazione per altri, oppure, e di fatto mi viene da chiedere, ma a te? Cioè, proprio banalmente, ma cosa te ne frega? La risposta è, vorrei sapere la tua, che io, molto personale, che non penso sia quello giusto che mi sono data, è che se tu hai controllo sul corpo di una donna fino a quel livello, beh, poi la controlli su tutto. Cioè, una volta che puoi decidere del suo futuro, della sua vita, del suo stesso corpo, allora puoi veramente decidere quanto, quando deciderai quanto pagarla, come potrà andare vestita, quello sarà banale, cioè sarà tutto in discesa, perché avrei deciso proprio del suo corpo. Tu, quando ci pensi, immagino che, visto il tuo mestiere, tu ci abbia pensato tante volte, che risposta ti sei data? In realtà, la stessa che ti sei data tu, è proprio questa. E noi, d'altra parte, discutiamo oggi della possibilità di dare anche il cognome materno, quando invece un figlio nasce, nel 2022. Quindi, diciamo che le battaglie, le conquiste sono state tante, ma sono state anche faticose, smantellare quel controllo sulla donna, che partiva sicuramente dai corpi delle donne, perché è una battaglia che viene portata avanti, che è stata portata avanti a costo zero. Quella sui diritti sono scontri a costo zero, dove è facile riuscire a creare anche delle narrative distorte, per cui sei veramente donna solo se sei madre. questo lo sentivo peraltro veramente pochi giorni fa dal discorso di Giorgia Meloni. Quindi, da donna, no? Sono scontri, quello sui corpi delle donne è uno scontro che è mondiale ed è attualissimo. Si è rigenerato con una, con un linguaggio sicuramente moderno, ma torna ad essere il perno su cui si contrappone una visione aperta e libera di società democratica anche con le problematiche che questo può comportare, cioè il, come dicevamo prima, il curare la democrazia, il farla vivere e dall'altra il giocare sulle debolezze delle democrazie per imporre visioni autoritarie. tutto il mondo in questo momento ci dice questo, cioè gli scontri politici in atto partono o hanno comunque al centro i diritti civili, le leggi per il riconoscimento o per la restrizione di diritti LGBT, le donne, penso al fine vita anche, e quindi le scelte diciamo dall'inizio alla fine della nostra vita partono e hanno al centro i diritti civili perché appunto è una battaglia a costo zero, i costi sono altissimi in realtà, sono costi in termini di vite perché parlando di aborto lì dove ce lo dice l'OMS vigono leggi restrittive criminalizzanti le morti sono molto più elevate perché la criminalizzazione crea clandestinità, l'aborto è un fenomeno, l'interruzione volontaria di gravidanza è un fenomeno che non può essere arrestato, non può essere bloccato con un divieto è un paragone mi rendo conto molto lontano ma in parte i regimi proibizionisti le decisioni proibizioniste sulle scelte di vita delle persone spesso non creano altro che clandestinità e quindi si reagisce dicendo gestiamoli questi fenomeni siamo nel 2022 ma questo non è ancora passato fino in fondo e quindi i costi in realtà sono altissimi e come dicevi benissimo tu nel porre questa domanda molto spesso le libertà spaventano perché manca la possibilità di controllare le vite e si pensa in maniera molto sbagliata che poi a libertà si possa in maniera diciamo circolare crearne altre però la creazione di spazi di libertà in realtà è qualcosa che appunto anima i regimi e dovrebbe tornare ad animare i regimi democratici per questo in realtà oggi in Italia è spaventoso dal mio punto di vista che le anime politiche progressiste non pongano con forza al centro questi temi e non se ne occupino non tornino ad occuparsene di fronte peraltro non a come dire a denunce di un'associazione come libera di abortire ma di fronte a condanne che il nostro paese ha a livello europeo per la mancata attuazione della 194 noi siamo si dice spesso ma in questo caso è proprio così degli osservati speciali sotto la lente di ingrandimento dell'Europa proprio perché proprio per i tassi di obiezione di coscienza che impediscono di fatto questo diritto a prescindere ovviamente da come la si pensi sulla libertà del personale medico di di fare aborti o meno non è questo in discussione in discussione c'è uno uno stato che di fronte a numeri così gravi così importanti deve occuparsene deve introdurre misure volte a far sì che questo diritto sia almeno al pari di quello del personale medico di obiettare legittimamente quindi è uno scontro credo proprio mondiale tra visioni della società sto imparando un sacco di cose non so voi ma è incredibile pensare a quante cose non sappiamo in generale nella vita questo però si dà per scontato però su questo tema prima iniziando abbiamo appunto letto un estratto di Nierno e riflettendo un po' su quanta letteratura cinematografia quanta narrazione ci sia sulla tematica di aborto su qualsiasi motivazione che porta poi all'aborto beh se fate una ricerca anche solo banale su google pochissima l'aborto è pochissimo rappresentato nelle storie che vengono raccontate che siano appunto di autofiction che siano narrazione eppure continuo a essere sempre presente questo contribuisce a far sentire le donne molto sole perché se non ho una storia che parla di me e che mi rappresenta penserò sempre di essere l'unica a cui quella cosa capita perché non la posso guardare nelle storie che fruisco in un periodo in cui le storie sono al centro di tutto perché le guardiamo in qualsiasi modo ci piaccia guardarle e quindi volevo chiederti secondo te perché anche le narrazioni che a questo punto vengono fatte da donne e da uomini si dimenticano o mettono o scelgono di non parlare di questo tema è una domanda difficile perché io credo che sull'aborto non possiamo non parlare al plurale di storie differenti l'aborto non è almeno anche qui dal mio punto di vista né un trauma né una vittoria è un diritto ma guardato soggettivamente può essere un dramma può essere un vissuto tranquillo del proprio percorso di scelta cioè quello di non diventare madri in quel momento o per tutta la vita può essere un dramma non per la scelta insieme ma per il come viene vissuto per lo stigma magari che si riceve anche nelle strutture pubbliche per le difficoltà che si incontrano per la mancanza di informazione che ci fa sentire sole o può essere un accadimento scelto voluto tranquillo anche semplice perdonatemi magari delle parole che possono sembrare un po' forti però è anche è anche così sempre se lo guardiamo soggettivamente cioè rispetto a quello che una persona vive non c'è un'unica narrazione e questo io credo sia oggi il fallimento della politica cioè tentare o da una parte o dall'altra di far passare un'unica rappresentazione e quindi da qui la difficoltà anche del narrarlo però la sfida è quella del riconoscere la complessità dei vissuti umani e del dar loro voce senza mai chiaramente tentare di sostituirsi ma aprendo microfoni e per esempio con Libera di Abortire è quello che abbiamo fatto naturalmente perché la campagna nasce se non del tutto ma in gran parte proprio da una storia cioè dalla storia di Francesca lo raccontavo prima Giulia di Francesca Tolino che è una una donna una giovane donna una ragazza una madre che qualche anno fa incinta di circa sei mesi scopre con una diagnosi tardiva di avere che il feto che portava in grembo era gravemente malformato la bambina non sarebbe sopravvissuta più di qualche settimana dopo il parto decide con il compagno quindi di interrompere la gravidanza lo fa con convinzione parlandone con il proprio compagno scelgono insieme di non portare a termine questa gravidanza quindi parliamo di un aborto dopo i 90 giorni cosiddetto terapeutico Francesca vive una serie di ostacoli quelli di cui parlavamo prima lo stigma la difficoltà di trovare un medico non obiettore in particolar modo chiaramente visibilmente diciamo incinta questo lo dico perché incide anche sullo stigma che c'è rispetto a questo tema e poi il tutto si quindi il prima il durante ma anche il dopo l'aborto perché Francesca scopre dopo aver abortito che presso un cimitero della sua città una grande città peraltro Roma è affisso una croce con il suo nome cognome in un paese torniamo dove non si può dare il cognome non si poteva adesso fortunatamente c'è stata un'importante sentenza della corte costituzionale dove non si poteva dare il cognome della madre per scelta invece al contrario qualche associazione sicuramente con la complicità anche almeno a livello di silenzio delle istituzioni e degli ospedali c'era il proprio nome e cognome affisso su una croce e scopre viene fuori una notizia che ha fatto poi il giro del mondo l'esistenza dei cimiteri dei feti dei bambini mai nati alcuni li chiamano e da lì mi contatta anche come come avvocata ci contatta e ci dice dobbiamo fare qualche cosa dobbiamo farlo legalmente ma dobbiamo farlo anche in maniera politica civica dobbiamo parlare dobbiamo far uscire questa storia dobbiamo raccontare cosa significa oggi abortire in Italia cosa può significare abortire in Italia oggi e decide di raccontare questa sua storia e lei appunto tornando anche alla tua domanda lei ci dice sempre mi dice sempre la mia non è la storia di tutte è una delle tante storie può essere la storia di molte ma non voglio che la mia storia sia il dramma dell'aborto in Italia voglio solo raccontare una delle storie di aborti che oggi avvengono in un paese dove comunque esiste una legge ed è una delle narrazioni quindi la difficoltà che oggi c'è è quella secondo me di dare legittimazione e ascolto a queste storie che sono forti che sono forti che scuotono e quindi questo a volte non piace non va bene perché chiama in causa tante cose chiama in causa le scelte sulla famiglia chiama in causa la sessualità anche chiama veramente in causa tanti temi intimi profondi delicati ma al contempo anche forti civici politici a volte era diciamo anche lo slogan di un tempo ma io ci credo davvero le storie sono politica sono storie politiche anche anche il personale il personale politico chi decide chi decide di farlo non è un eroe nel senso che al contrario non va criminalizzato chi decide invece di tenere la propria storia come come privata però ci aiuta ecco aiuta a non dico normalizzare ma a riporre al centro temi che sono che chiamandone in causa molti altri sono temi politici sono temi civici sono temi che riguardano il vissuto possono riguardare il vissuto di ciascuna di noi e appunto come dicevamo essendo molto personale assume anche dei significati diversi e in certi casi è qualcosa che desideriamo che avvenga in certi altri è qualcosa che capita e che in qualche modo subiamo e qui veniamo alla seconda cosa che troverete se scrivete letteratura a porto su google che è qualcosa che nel 1975 l'europeo commissiona a Oriana Fallaci un articolo un reportage sull'aborto ma è Oriana Fallaci e dopo qualche mese torna con circa 300 pagine e tira fuori quello che è diventato assolutamente il best seller di quegli anni circa mi pare due milioni di copie vendute volevo leggerne con voi una parte ovviamente il libro l'avrete capito è lettera a un bambino mai nato che è un libro che dà molto fastidio quindi mi assumo la responsabilità di questo fastidio verso la fine del libro cioè no verso metà lei scrive ho interrotto il viaggio sono tornata in città e ho telefonato alla dottoressa che non ci credeva ripeteva stia calma 15 giorni fa andava tutto bene certo è la sua fantasia gli ho risposto che il sangue non è fantasia che per una settimana sono stata ferma in un motel col solo risultato di vedere uno stilicidio di sangue mi ha ordinato di raggiungerla immediatamente sulla porta sorrideva col suo consueto ottimismo mi sono spogliata alla svelta prima che me lo dicesse mi sono distesa sul lettuccio e lei mi ha appoggiato una mano sul cuore ha esclamato come batte fare umore quanto un tamburo non ho risposto né alla sua dolcezza né al suo sorriso la tua incomprensione non mi serviva più è vera più è vera a me la sicurezza di partecipare a una cerimonia superflua segretamente attesa in fondo e forse voluta ero pronta rassegnata convinta che non avrei reagito perché tutto quello che c'era da dire l'avevo già detto tutto quello che c'era da patire l'avevo già patito ma quando la cerimonia è iniziata ho compreso che non sarei mai stata pronta mai perfino ascoltare le sue domande mi faceva male persino rispondervi lo ha sentito muovere recentemente? no si è sentita più pesante? più goffa? no e quando si è messa in testa l'idea che sulla strada accidentata prima di arrivare al motel piuttosto insufficiente per ricavarne i giudizi e tocca a me a esprimere i giudizi sì o no? poi mi ha scoperto il ventre ha notato che in realtà sembrava più piatto di prima mi ha palpato i seni ha osservato che in realtà sembravano meno turgidi di prima si è infilata il guanto di gomma e ti ha cercato e la sua fronte si è corrugata i suoi occhi si sono rabbuiati mentre diceva l'utero ha perso tono si presenta avvizzito è lecito sospettare che il bambino non cresca bene che non cresca più dovremmo fare un esame biologico aspettare ancora qualche giorno poi si è sfilata il guanto e lo ha buttato via si è appoggiata con entrambe le mani al lettuccio mi ha fissato con mestizia tanto vale che glielo dica subito ha ragione lei non cresce più almeno da due settimane o forse da tre si faccia coraggio è finita è morto non ho risposto nulla non ho fatto un gesto non ho battuto un ciglio sono rimasta lì con un corpo che era pietra e silenzio anche il cervello era pietra e silenzio non vi savi dare un pensiero una parola l'unica sensazione era un peso insopportabile sopra lo stomaco un piombo invisibile che mi schiacciava come se il cielo mi fosse precipitato addosso senza far rumore nell'immobilità assoluta nella mancanza di suoni assoluta il suo invito è esploso con fragore di uno sparo coraggio si alzi si vesta quando Oriana Fallacci scrive questo libro nello stesso anno capisce che cosa ha fatto ha raccontato una storia che non a molti va di ascoltare e l'ha raccontata in un modo che non si perdona alle donne cioè l'ha raccontata col potere come diceva Zimbo Bosca una poetessa del non so e quindi a un certo punto in una raccolta di lettere di Pasolini in realtà si ritrova una lettera di Fallaci a Pasolini in cui Fallaci dice gli antiabortisti si arrabbiano con me perché dicono che io sono pro-aborto gli abortisti dicono che io sono contro l'aborto la Chiesa Cattolica mi prende come esempio perché secondo loro io sono dalla loro parte e nessuno ha capito niente nessuno ha capito che questo libro è la sacra del dubbio che c'è solo dubbio dentro di me lei diceva io sono contro la pillola anticoncezionale perché per me quella è una forma già di aborto però diceva io sono contro io non la userei mai io non abortirei mai questo non toglie a tutte le donne il diritto di farlo e quindi io volevo chiederti che spazio ha il dubbio e in qualche modo il giudizio il dire non so come mi sento il fatto che si possa rimanere incinte che è una cosa che almeno a me visto l'età che ho capita tantissimo la domanda ma se rimanessi incinta cosa faresti? boh non lo so dei giorni ti direi che bello dei giorni direi oh mio Dio ho da fare e che spazio ha il dubbio in queste storie? dovrebbe averne tantissimo dovrebbe averne tantissimo se non che oggi lo spazio principale è preso dal non dubbio in un senso o devo dire purtroppo molto in un altro cioè nel senso di imporre di vieti erano anni in cui in Italia si moriva di aborto di aborti spontanei di aborti invece cercati perché l'aborto era illegale ma erano anche anni dove per esempio l'America gli Stati Uniti avevano appena legalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza a livello federale con una sentenza del 73 importantissima che sancì la costituzionalità del diritto all'aborto perché presente nella costituzione secondo la lettura della sentenza del 73 presente nella costituzione americana sotto il diritto alla privacy oggi 2022 viviamo in giorni in cui quella sentenza pare essere sotto scacco è uscita da pochi giorni una la notizia di una bozza che non è stata smentita dai giudici della Corte Suprema in cui in una decisione attesa per giugno però questa bozza è già appunto in circolazione viene ribaltata la sentenza del 73 e quindi viene rinnegata quella sentenza e ciò comporterebbe fondamentalmente che ciascuno stato negli Stati Uniti potrà decidere se legalizzare o meno l'aborto ulteriore conseguenza oggi sarebbe quella di vedere circa 26 Stati negli Stati Uniti quindi un numero molto importante vietare l'aborto cosa è successo in questi anni è difficile ovviamente dirlo in poco tempo cercare di ripercorrerlo ma è successo sicuramente che il dubbio non ha avuto spazio che addirittura si è preso d'assalto ecco il corpo delle donne come terreno fertile per elezioni perché per esempio Corte Suprema americana i giudici vengono scelti da Presidenti degli Stati Uniti dai Presidenti in carica e quindi oggi abbiamo una Corte Suprema che a differenza degli anni 70 è in gran parte repubblicana Trump riuscì nel suo mandato a sceglierne tre sono nove i giudici quindi capite come gli assetti possono cambiare di di mandato in mandato lo scontro è mondiale il dubbio non è non è riuscito a avere lo spazio che avrebbe meritato perché per quanto si possa appunto essere o non essere d'accordo con le parole che abbiamo ascoltato che leggiamo e che dal mio punto di vista è fondamentale leggere rileggere ovviamente anche storicizzare perché anche questo è importante e sulla fallaci vale in maniera particolare esatto in generale su molte delle sue opinioni però è anche importante riconoscere il dubbio laddove gli spazi del dubbio dare al dubbio voce laddove questo non diventi in posizione invece quello cui purtroppo stiamo assistendo è non solo sul tema dell'aborto del corpo delle donne ma su devo dire molti temi penso davvero anche al tema dell'eutanasia io non so se lo farei io da legislatore prenderei questa mia stessa affermazione cioè io non so se lo farei per dare forza invece ad una strada di scelta di libertà perché il mio non so se lo farei deve far sì deve comportare che la persona accanto a me possa avere tutti gli strumenti per poterlo invece fare realizzare quella scelta quel diritto e questo è sicuramente uno degli altri temi dove si gioca appunto questo tipo di scontro e di riflessione purtroppo lo spazio del dubbio è sempre meno e quindi è molto importante lo spazio della letteratura delle narrazioni per restituire queste dimensioni che sono dimensioni complesse ma che sono quelle dal mio punto di vista da cui dovrebbe partire la politica cioè rispondere alle complessità del sociale sì che poi nella questione femminile il dire io non so se lo farei ma lascia a te il diritto di farlo appunto porta a un livello di complessità a cui purtroppo adesso nel discorso femminile non siamo troppo abituate perché polarizzarsi è più semplice che portare il discorso al centro cioè che quando dici io non sono d'accordo ma tu lo puoi fare stai mettendo in campo un sacco di stai mettendo in campo l'etica stai mettendo in campo che si scinde dal personale e quindi diventa complicato noi abbiamo parlato di condizioni in Italia abbiamo parlato di America e adesso vorrei invitare sul campo Daria Anna Sitek perché ci parlerà di qualcosa di più complesso che ringrazio tantissimo di essere qui con noi stasera ci spondiamo? dove andiamo? c'è qua la telecamera grazie grazie mille di essere qui con noi davvero e abbiamo in condividamento che non so se ci vede però saluto Maddalena Gorecka ho pronunciato bene? Gorecka ecco tu hai pronunciato bene io no e Daria fa parte dell'associazione culturale Polskicot come ho detto prima probabilmente male anche questo e invece Maddalena è uno dei volti dell'OSC dello sciopero nazionale delle donne polacche un attivista e lascia a te raccontarci di che cosa vi occupate grazie mille Giulia e anche a te Giulia per questo excursus per quanto riguarda la situazione in Italia e io e Magda ci siamo conosciute durante una rassegna prodotta dal Polskicot che appunto trattava della coalizione femminile nei paesi dell'est Europa che si svolta tra l'anno 2021 e 2022 e appunto è stata fortemente ispirata dagli eventi di ottobre 2020 successi nelle piazze polacche per quanto riguarda della protesta era di cui Magda era una delle esponenti principali adesso vi spiego un attimino cosa andiamo a fare e poi vi traduco il suo intervento Hei Magda wszystko dobrze? Dobry wieczór Buonasera Bardzo się cieszę że zostałam zaproszona i grazie mille dobrze powiedziałam? Dobrze ringrazio per l'invito e grazie mille appunto per questo intervento możemy zaczynać Ok Według Amnesty International średnio co czwarta ciąża kończy się aborcją Na świecie wiele osób potrzebuje terminacji ciąży z różnych powodów Są to powody życiowe zdrowotne albo po prostu z wyboru Według WHO co roku dokonuje się na świecie ponad 22 miliony niebezpiecznych zabiegów które często kończą się śmiercią ciężarne Tyle obywateli ma Australia 22 miliony Zatem to tak jakby cały kontynent robił sobie operację wyrostka bez znieczulenia albo kowalskimi narzędziami Secondo Amnesty International in media ogni quarta gravidanza finisce con l'aborto Nel mondo tantissime persone hanno bisogno di terminare una gravidanza per ragioni varie che potrebbe essere di vita di salute oppure semplicemente di scelta Secondo la ricerca di WHO ogni anno Nel mondo in tanti paesi il tema dell'aborto è discusso ferocemente le informazioni sono falsificate l'aborto è criminalizzato la terminologia è manipolata per demonizzare la question l'argumento a manipolare l'opinione pubblica Zgodnie z nazewnictwem medycznym w macicy znajduje się zygota zarodek płód i koniec tak zwani obrońcy życia maniakalnie używają słowa dziecko po co? Aby zabarwić krwią słowo aborcja i aby uzasadnić słowo morderstwo którym tak często się posługują a nam kobietom dać alternatywę bycia inkubatorem lub zabójczynią secondo la nomenclatura medica nell'utero c'è uno zigote un embrione o un feto e un feto fine questo è per quanto riguarda la terminologia medica i cosiddetti esponenti dei movimenti pro-life pro-vita usano maniacalmente questa parola bambino per cosa? per colorare di sangue la parola aborto e per giustificare la parola omicidio che usano così spesso abusandone obrony ma a quale prezzo questa è la domanda negando l'accesso all'aborto a una donna gratuito legale e sicuro aumenta il numero delle vittime di questa idea malata di difesa di vita tra le virgolette in Polonia polskiego Wiele z nich i soferami gwałtów wojennych. Doświadczyły one bestialstwa ze strony rosyjskich żołnierzy, a teraz spotykają się z bestialstwem polskiego piekła kobiet. Co prawda mogą one usunąć ciążę pochodzącą z gwałtu, ale tylko teoretycznie, bo w Polsce gwałtem zajmuje się prokurator, który nie ma ram czasowych, żeby wydać oficjalne pozwolenie na usunięcie ciąży. Woman's Hell, ovvero l'inferno delle donne in Polona, sta attualmente subiendo un'altra puntata, poiché adesso sono in fuga tantissime donne dall'Ucraina che hanno subito, sono state vittime di stupi di guerra, che hanno sperimentato la bestialità dei soldati russi e adesso sono costrette a subire un'altra, cioè affrontare la bestialità dell'inferno delle donne polacche. È vero che possono interrompere la gravidanza a seguito di uno stupro, ma soltanto in teoria, perché in Polonia i casi di gravidanza sono trattati dal pubblico ministero, che non ha limiti di tempo per rilasciare una sentenza. I w efekcie taka zgwałcona Ukrainka, która jest obarczona z jednej strony wojennymi traumami oraz gwałtu, boryka się dodatkowo z tematem ciąży pochodzącej z przemocy. Ten temat jest jej nieznany, bowiem na Ukrainie aborcja jest legalna, bezpieczna, do 12 tygodnia ciąży, a tabletki wczesnoporodne sono bez recepty. Takie pytanie mi si w pewnym momencie urodziło. Czy polskim prokuratorom wystarczy czasu, żeby uratować zwolcone Ukrainki? Dziękuję. senza fornire una motivazione e le pillole abortive sono disponibili senza una prescrizione medica. Dunque la domanda che si posta Magda è avranno abbastanza tempo i pubblici ministeri per salvare queste donne violentate? W Polsce mamy taką fundację, którą zaubertoła Kaja Godek. Jest to jedna z fundacji tak zwanych pro-life, ochrony życia. W jaki sposób ta fundacja pomaga Ukrainkom? Mianowicie wydrukowała ulotki pod tytułem Aborcja to zabójstwo w języku ukraińskim, które informują o tym, że aborcja to jest najgorsza zbrodnia. I znów mamy tutaj do czynienia z dezinformacją i kryminalizacją aborcji. zainteresu 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 zainteresu. zainteresu 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 zainteresu, zainteresu 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 zainteresu. Dostęp do aborcji jest tożsamy z prawem wolnego wyboru, samostanowieniem o swoim życiu. Nadto prawa człowieka wyraźnie mówią o tym, że każdy może decydować o swoim ciele. To jest tak zwana integralność fizyczna. Zmuszając kogokolwiek do niechcianej ciąży lub też zmuszanie do poddania się niebezpiecznej aborcji i w efekcie narażenie zdrowia lub życia stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka. I mając na uwadze, że aborcja dotyczy również osób transpłciowych, mówimy tu właśnie o prawach człowieka, a nie tylko o prawach kobiet. Inoltre i diritti umani afirmano chiaramente che ognuno può decidere sul proprio corpo. Qui si intende la cosiddetta integrità fizica. jest jedna violacja tych umani internazjonalnych przystawać ktoś do niebezpieczający niebezpieczający albo przystawać ktoś do niebezpieczający do niebezpieczający i wytrzymający i wytrzymający i wytrzymający. I wytrzymający że zabiorę także też do niebezpieczający transgenęcy i mówimy o niebezpieczający umani, nie tylko do niebezpieczający kobietę. Także wszyscy mamy prawo do życia. mamy prawo do zdrowia, ochrony przed przemocą i dyskryminacją, torturami oraz innymi okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi traktowaniem. zakaz aborcji jest formą dyskryminacji po prostu po prostu dobbiamo combattere nonostante siamo nel 2022. Sofresco, grazie. niebezpieczający niebezpieczający sono anche sotto la protezione perché... Oh, eccoci! Ciao! Ciao! Cosa è stato? Cosa è stato? Cosa è stato? Ok, cosa è successo? Cosa è stato? No, abbiamo qualcosa di risultato. Rozumiamo che vogliamo parlare, no? Ok, no niente, è un problema di rete. Sto a posto, quindi possiamo ancora salutarla. Stavo dicendo che appunto molto spesso le persone che si occupano di queste tematiche, soprattutto a livello pubblico come le demo e le dimostrazioni che stanno tuttora facendo devono essere potete dalla legge. Quindi abbiamo avuto un altro ospite durante la Rassinia Cobieto che era proprio un'avvocatessa che lavora con il Pubblico Ministero per migliorare questa situazione. Tra l'altro se vi interessa approfondire questo argomento perché riteniamo che avere una veduta più ampia ci fa rendere conto del fatto che siamo tutti coinvolti ugualmente in questa lotta, sul nostro sito del Polskicot ci sono gli eventi che erano lotti in streaming per approfondire i temi perché non solo la Polonia ma anche la Russia è stato un argomento abbastanza trattato. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille davvero. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie mille a tu. Va. Se va via veramente. Bene. Direi che se voi non avete altro da aggiungere siamo arrivati alla fine di questo semplice sabato pomeriggio e vorrei ringraziarvi davvero perché perché non so se è anche la vostra sensazione ma rendersi conto ci sembra di vivere con delle nozioni ovvie e poi ti rendi conto con piccole cose mi vedo lì? Ti rendi conto con piccole cose forse è too much così schiaccia un tasto ti prego no che è sempre questione di a. nascere nella parte fortunata di mondo che non è assolutamente una questione di merito proprio in nessunissimo modo ma è il famoso privilegio di cui tanto parliamo e b. che non sai niente di niente per quanto pensi di essere preparata sul tema e quindi grazie di cuore per quello che avete fatto per noi vi invito ad approfondire come come Daria ci diceva sul sito del polski cot troverete tutti lì anche gli articoli che sono stati scritti tradotti quindi non è un ostacolo linguistico che è sicuro che è accessibile certo e a seguire la pagina di Libra d'Avortire che ogni giorno direi proprio ogni giorno informa sulla tematica prendo un piccolo secondo per dirvi che Mind the Gap il festival di cui questo incontro fa parte continua ad Off Topic stasera e ancora domani trovate tutto il programma sulle nostre pagine social e sul sito e quindi siete assolutamente le benvenute e i benvenuti abbiamo anche dei benvenuti in sala e quindi vi aspettiamo se ne avrete piacere da Off Topic qui al circolo abbiamo concluso i nostri due eventi e che ringraziamo di averci ospitato grazie a voi ancora tantissimo e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti